Siamo in Piazza Indipendenza a Sanona di Piave davanti al monumento dedicato all'eroe Giannino Ancillotto, opera dell'architetto Pietro Lombardi inaugurato il 15 novembre del 1931, presente all'epoca all'inaugurazione anche il ministro Italo Balbo. E vogliamo ricordarlo, buongiorno, benvenuto, con il maresciallo dell'Arenautica Bellesso. Perché l'importanza di ricordare la figura di Giannino Ancillotto? Oggi per noi è un giorno un po' particolare perché abbiamo il piacere di ricevere a Sanona di Piave una delegazione del nucleo di Caravaggio. Caravaggio è il luogo dove Giannino Ancillotto perse la vita in un incidente stradale. Il capo nucleo con i soci di Caravaggio hanno voluto visitare la mostra che dà inizio ai festeggiamenti del centenario della Grande Guerra. In occasione della giornata di chiusura della mostra dedicata a Giannino Ancillotto è giunto a Sanona di Piave la delegazione del nucleo aeronautico proveniente proprio da Caravaggio. Caravaggio è sempre stata particolarmente legata a Giannino Ancillotto. Tant'è vero che la famiglia Ancillotto è sempre rimasta legata a Caravaggio con opere benefiche. Noi tuttora lo ricordiamo con un monumento inaugurato da Gabriele D'Annunzio ma ancora di più recentemente è stato inaugurato un nucleo dell'Associazione Arma Aeronautica intitolato alla medaglia d'oro Giannino Ancillotto, molto attivo localmente ma anche a livello nazionale. Ad accogliere la delegazione proveniente da Caravaggio in rappresentanza dell'amministrazione comunale e l'assessore Chiara Polita. Siamo stati onorati da questa delegazione del dottor Pellegri appunto di Caravaggio del nucleo aeronautico che ha già un rapporto lungo di amicizia con il nucleo nostro dell'aeronautica di San Dona di Piave quindi siamo ben felici di accoglierli. Anche Caravaggio ha ricordato il nostro eroe. Caravaggio ricorda non solo l'eroe ma anche e soprattutto l'uomo come esempio per le nuove generazioni promuovendo azioni di cultura anche attraverso borse di studio. Abbiamo istituito un premio di studio nazionale dedicato alla migliore tesi dei vari politecnici e delle varie facoltà di ingegneria per le discipline aeronautiche, aeromediche ed aerospaziali. San Dona e Caravaggio unite da Giannino Ancillotto per ricordare non solo l'eroe ma anche e soprattutto l'uomo. Io ringrazio specialmente la popolazione di San Dona e di Caravaggio per il loro affetto dimostrato che lo ricordano sempre perché aveva il vero senso dell'amor di patria. Valori, ideali, coraggio, amor di patria, imprese ardite. Questa è la vita di Giannino Ancillotto raccontata attraverso la mostra. Ma la memoria non rischia certo di andare perduta perché nella piazza principale della nostra città c'è il monumento che ricorda Giannino Ancillotto. Per noi il monumento è una cosa importantissima. Io mi sono rivolto in più occasioni al sindaco, all'assessore alla cultura. Non è un luogo dove si possa salire, scendere come si vuole. Il monumento deve essere rispettato per l'eroe che rappresenta, per la cittadinanza di San Dona di Piave. Noi dobbiamo essere orgogliosi di avere come concittadino una medaglia d'oro e questo per noi è molto importante.